Marco, allora, vigilia importante, è una sfida sentitissima quella di Ascoli, un po' da tutto l'ambiente. Venite da una vittoria che sembrava insperata per come si era sviluppato il primo tempo, ma poi è stata esaltante nella parte finale. Sicuramente veniamo da una delle vittorie più belle che abbiamo fatto finora in campionato, perché comunque ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a ribaltare una partita non facile. Poi comunque ora diciamo che anche i tifosi ci hanno dato una grossa spinta e quindi ora ci affrontiamo questa partita che comunque per noi è importante per tutto l'ambiente. Incrociate l'Ascoli, abbiamo detto sfida molto sentita, ma tu incroci personalmente un vecchio maestro, Vincenzo Viviarini. Ah sì, il mister mi fa sempre piacere rincontrarlo. Vecchio tra virgolette. No, sì, sì, il mister mi ha insegnato molto, quindi mi fa molto piacere rincontrarlo. Non vi siete sentiti, no? No, no, assolutamente. Sicuro, dici la verità, guarda bene la telecamera, tutto tranquillo. Siamo avversari, per un giorno sì. Magari vi saluterete a fine partita. Sì. Più liberi di testa, è possibile, è auspicabile un Pescara del genere in questo finale di campionato? Personalmente credo che non siamo una squadra che può essere spensierata a questo punto del campionato, dobbiamo dare sempre il massimo e stare ancora di più sul pezzo in ogni partita. A Lecce secondo me siamo andati un po' troppo spensierati di testa e poi abbiamo fatto una brutta figura, quindi secondo me dobbiamo starci con la testa ancora di più in questo finale di stagione. Chi gioca, chi sta fuori, perché comunque chi entra abbiamo visto che può cambiare il volto di una partita, quindi ancora di più in queste sei partite ognuno deve dare il massimo. Senti, parliamo anche dell'Ascoli che non vince in casa dal 30 dicembre. Facciamo da subito i debiti scongiuri, non so se si è visto, Diego è stato bravo, non ha colto l'attimo, diciamo così. Però è una squadra anche l'Ascoli che ha ripreso, se vogliamo, vigore dopo l'ultima partita. L'Ascoli diciamo che comunque è andato a fare una grande vittoria a Padova, l'ultima, e quindi sicuramente l'ambiente ora caricherà la squadra perché è una partita a cui tengono molto anche loro. Io credo che possiamo giocarcela alla grande, quindi spero molto in noi perché è una partita a cui tengo molto personalmente e quindi spero faremo una bella partita. Hai letto e l'ho comunicato dei tifosi? Sì, sì, ci è arrivato ieri a tutta la squadra. Spero di dare il massimo anche per loro.